Intorno al grande albergo spuntato dei campi di grano turco si sono moltiplicate le costruzioni per accogliere una clientela in continuo aumento e il paese ha visto arrivare nelle proprie casse introiti fino a qualche anno prima impensabili. Così, un po' anche per contraccambiare tanta generosità e per accattivarsi la simpatia dei villeggianti, la gente del Fondovalle ha rispolverato spesso artificiosamente costumi e tradizioni tramandati gelosamente per generazioni. La Terra La Terra Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti.